Sarà una terna composta dalla vicepresidente della regione Sogna Viale, dal capogruppo Alessandro Piane e dal vice segretario regionale della Lega Nord Liguria Flavio Di Muro ad affiancare la segreteria provinciale di Imperia in vista delle prossime elezioni amministrative. Lo ha deciso ieri sera il Consiglio Nazionale della Lega Nord Liguria che ha formalizzato la nomina. La prossima primavera, dichiarato il segretario regionale del Carroccio Edoardo Rixi, avremo sfide importanti sul territorio con tre comuni, Imperia, Bordighiera e Valle Crosia che andranno al voto. Sogna Viale, Alessandro Piane e Flavio Di Muro, dice Rixi, hanno grande esperienza politica e istituzionale, conoscono molto bene il territorio a cui sono fortemente legati. Sicuramente quindi daranno un contributo importante nelle scelte dei candidati nell'ottica del governo di tre comuni strategici per il Ponente e per la Liguria.